Ciao innanzitutto Avete presente quando tu vai fuori al matras Ti senti un'odore di pane Ma non c'è nessuno mai là fuori Che tu dici Come vado a prendere un cornetto Un poco di pane Però teniamo i panini là fuori E quindi Mi sono permesso Di prendermi un panino E' quasi due Eh no, uno non lo ha preso Ah bufate Però erano anche attaccati Però Ma escevano a prendere la forma Queste mazzate Però E' stata una bella cosa E quindi prima di Dimenticarci ci è sembrato fortuno Fare un bel bico Adesso fare del panino Quindi inquadriamo questo panino Adesso lo assaggiamo E' un bel bico Ah appena fatto E' ottimo Ah 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 niemand P-, ah Rosemary Prendiamoci i panini Ah Ah Non so che erano i dei testi bulgaria con il centro 2011 we are coming we are coming ciao ciao